In una nota Giuseppe Malfitano, presidente del CDA del consorzio acquedottistico Tresorgenti, fa un bilancio sino ad oggi. Abbiamo, scrive nella nota, rispetto al gennaio dello scorso anno una consistenza di cassa assai inferiore. 320 mila euro circa a fronte del milione e 700 mila euro dello scorso anno. Questo ha consigliato prudenza e grande attenzione al sottoscritto e al dirigente competente, il ragioniere greco, nell'attivare quanto necessario per garantire a tutti i precari in scadenza contrattuale una continuità lavorativa. Stiamo parlando di un ente che da anni non riceve più le quote di finanziamento e che ogni anno con difficoltà progressivamente maggiori si trova ad affrontare il nodo contrattuale dei precari con sempre minore disponibilità. È evidente, scrive Malfitano, che il mio desiderio di garantire la continuità lavorativa agli 11 precari in scadenza debba anche tener conto delle povere casse del consorzio che rischierebbe, senza una ragionata programmazione delle spese, una vera e propria implosione a danno degli stessi precari e di chi ha un contratto a tempo indeterminato. Per cercare di soddisfare le due esigenze di contenimento della spesa e continuità lavorativa dei lavoratori mi sono adoperato, dice Malfitano, sin da agosto per far approvare il bilancio, riuscendovi solo a dicembre, anche con la collaborazione responsabile del vice sindaco Rizzo, che pur coerente con la linea del comune di Canicattì, favorevole alla gestione degli impianti, ha consentito assieme ai sindaci di Licata e Palma di Montechiaro e all'astensione di Grotte l'approvazione del bilancio. Successivamente ho chiesto al dirigente dell'area finanziaria Greco di elaborare le proposte di proroga contrattuale relative alle diverse tipologie degli undici precari. Greco ha opportunamente chiesto parere al revisore dei conti Camilleri, il quale con Solersi ha prontamente formulato il proprio parere con il quale ha certificato che il consorzio rispetta i limiti imposti del patto di stabilità. E dato il via libera per un periodo di quattro mesi, pur nelle ristrettezze economiche attuali, ma tenendo conto dei crediti vantati da altre sorgenti, alle proroghe degli undici precari che comunque gravano in misura differente sulle casse dell'ente. In definitiva anche grazie ad un confronto continuo con i sindacati, in particolare con Alfonso Buscemi della CGL, che pur in difesa dei lavoratori ha capito le ragioni dell'ente. Siamo arrivati ad intravedere la soluzione per prorogare i contratti dei precari nel rispetto di una sostenibilità finanziaria pur limitata nel tempo. E mia intenzione, conclude così il comunicato Giuseppe Malfitano, convocare il Consiglio direttivo entro gennaio per valutare le proposte di delibera di Greco e si spera deliberare positivamente sulle proroghe contrattuali.